buongiorno ciao a tutti eccomi qua sono sempre io mario cruciani e oggi ci vediamo per la terza puntata di questo di questo programma chiamiamolo così insomma la linea del tempo e bene io vi formo che ho creato creato il blog il blog si chiama ripasso italiano ed è su wordpress quindi ripasso italiano.wordpress.com e lì pubblico ogni settimana pubblico i video che registro che mando in onda su youtube ma in più pubblico dei materiali aggiuntivi magari le cose di cui parlo qui durante durante il programma se ci sono dei materiali immagini o link cosa del genere le pubblico sul blog poi c'è anche il modo tramite il formulario di contatto di scrivermi direttamente se volete e poco più insomma è un modo per tenere in maniera ordinata i contenuti che affrontiamo durante durante queste lezioni di ripasso appunto come come dico sempre come ricordo sempre se volete scrivetemi insomma commentate eccetera se notate cose che non vi quadrano chiedete pure io come dico anche insomma come cerco di ricordare sempre seguo per queste lezioni di ripasso insomma seguo la quello che è considerato il programma di italiano della scuola secondaria e però appunto lo affronto a modo mio insomma ecco lo affronto in modo anche un po più personale poi adesso io sto facendo un percorso così più generale più ampio e poi dopo entreremo nel dettaglio di tante tante cose va bene ora basta chiacchiere e oggi l'argomento appunto è da latino all'italiano l'ultima volta abbiamo parlato del passaggio dal papiro al libro e quindi abbiamo fatto velocemente la storia del del libro e perché come dicevo è importante no per capire per capire anche che cos'è la nostra la nostra letteratura come come è rimasta come arrivata fino a noi ma adesso dobbiamo parlare di un altro un argomento interessantissimo e fondamentale che appunto è il passaggio dal latino all'italiano noi quando parliamo di letteratura parliamo di letteratura italiana ovviamente ma insomma questa lingua noi ci siamo ci siamo arrivati non è che non è che viene dal nulla o che esiste da sempre molti di voi immagino che non fanno il liceo se fanno il liceo comunque fanno magari di fate indirizzi fate indirizzi che appunto dove non c'è il latino in parte mi dispiace perché comunque una lingua una lingua molto bella il latino ha una letteratura molto molto bella molto interessante e ci sono autori anche molto molto moderni cioè interessanti per noi però capisco pure insomma che è una lingua antica che giustamente a molti a molti non non interessa insomma non preferite dedicare magari quelle ore ad altre 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 materie insomma va bene così però ecco non vi dimenticate che comunque il latino è fondamentale la cultura latina è fondamentale per noi perché noi veniamo dal latino tant'è vero che quando mi chiedono se è vero che il latino è una lingua morta io in maniera un po' provocatoria seguendo anche un po' quello che dice il professor nicola gardini in realtà rispondo che no la lì il latino è una lingua viva solo che non ce ne rendiamo conto perché si è trasformato e noi parliamo una sorta di latino se vogliamo risuscitato trasformato modificato mille volte eccetera ma insomma proprio morta morta non è è vero che si definiscono lingue morte quelle lingue che non hanno più che non aggiungono più diciamo lessico parole al loro vocabolario che non modificano più la loro grammatica la loro sintassi eccetera perché sono sono lingue che non sono più parlate effettivamente nel latino non si parla più però se volete raccogliere questa provocazione appunto considerate che il latino non è proprio la lingua morta ma la lingua che ancora vive nel nostro modo di parlare e di scrivere ma soprattutto di parlare e adesso ci arriviamo perché ma perché vi renderete conto che quando parliamo del passaggio dall'italiano al scusate dal latino all'italiano succede una cosa interessante che rimane ancora nel nostro nostra lingua orale cioè quello che era il latino il latino parlato diventa quello che noi oggi chiamiamo dialetto nei dialetti nei nostri dialetti ci sono molte tracce ancora piuttosto a volte anche piuttosto sensibili e tracce del latino residui del latino vero e proprio e infatti i dialetti sono non sono sottospecie dell'italiano e attenzione non fate non fate questo errore i dialetti sono lingue dalle quali poi deriva l'italiano è solo che sono lingue che ecco non hanno in alcuni casi non hanno una grammatica non hanno non sono state regolamentate diciamo ma sono lingue a tutti gli aspetti gli aletti e tra l'altro sono lingue che appunto hanno un contatto direttissimo con il latino bene qui come metodo ricordatevi sempre di fare questa distinzione in italiano la prima distinzione importante cioè dovete ricordarvi che noi stiamo parlando di letteratura e quindi stiamo parlando di lingua scritta lingua scritta per l'intrattenimento come dicevamo all'inizio ma ricordatevi sempre che noi parliamo di lingua e quindi parliamo anche di orale cioè di oralità di parlato ecco quindi anche per il latino c'è da fare questa distinzione c'era un latino scritto quello che noi definiamo il latino classico quello che dice cerone per capirci che più o meno va dal primo secolo avanti cristo al secondo terzo massimo ecco terzo secolo dopo cristo e quindi è il latino più elaborato più colto più raffinato dal punto di vista orfologico lessicale sintattico grammaticale e quindi questo è il latino classico quello che si studia a scuola praticamente la grammatica che studiamo a scuola e poi c'è un c'è un latino delle origini arcaico del quale tra l'altro non ci rimangono praticamente quasi testimonianze scritte e c'è un latino tardo che è quello che va dalla caduta dell'impero romano situata tradizionalmente nel 476 dopo cristo fino fino circa al settimo ottavo secolo dopo cristo un latino tardo nel quale questa differenza tra scritto e orale si fa particolarmente intensa ora voi immaginate qui parliamo sempre di proprio del basi del me stiamo gettando le basi del nostro metodo di studio no ecco voi quindi visualizzate questo parlato e scritto siamo nel mondo latino siamo nel mondo romano ricordatevi che quando parliamo di latino e qui entra un nuovo concetto quando parliamo di latino stiamo parlando di una lingua che si è vero che noi studiamo ed è tutta regolamentata è tutta perfettamente strutturata in grammatiche e libri vari no però ricordatevi che il latino ha convissuto per moltissimo tempo con altre culture altri popoli altre lingue l'impero romano scusate se andate a vedervi una qualsiasi piantina su internet dell'impero romano dell'estensione massima vedrete che raccoglie tutto il mediterraneo e oltre perché va a nord dall'inghilterra e scende fino al vallo d'adriano confini con la scozia praticamente scende giù tutta la Francia tutta la Spagna occidente tutto il nord Africa sud buona parte della nell'attuale Turchia e una buona parte poi c'è l'Egitto una buona parte del Medio Oriente quella che chiamiamo Palestina la e poi risalendo tutto l'est Europa fino alla Romania e parte della Germania ecco tutto questo enorme vastissimo territorio è stato romano cosa vuol dire vuol dire che tutti parlavano latino no non proprio vuol dire che il latino era il latino dei romani di Roma era la lingua ufficiale della lingua che parlavano i soldati più o meno è la lingua che parlavano gli ufficiali che parlavano soprattutto le persone colte le persone ricche gli aristocratici che avevano rapporti commerciali o comunque politici con Roma e quindi questo latino si diffonde in forma scritta quindi parliamo latino classico regolamentato scritto si diffonde in tutto l'impero romano in questo enorme territorio ora come sapete la scuola non esisteva c'era una specie di c'erano delle scuole c'era il modo di formarsi ma insomma non è come oggi e la gente il vulgus cioè il popolo la gente normale non parlava latino magari si capiva delle parole capiva delle delle frasi delle espressioni ma a casa loro parlavano la loro lingua e quindi immaginate no il latino è entrato in contatto con un enorme sostrato si chiama un enorme sostrato c'è uno strato sottostante di lingue diverse i contatti tra lingue non sono mai neutri cioè generano sempre figli generano sempre delle novità non solo con la fine dell'impero romano e le cosiddette invasioni barbariche e quindi con lo stabilirsi nel territorio romano di popolazioni che provenivano prevalentemente da est che avevano altre culture che parlavano lingue completamente differenti anche le lingue germaniche del nord ecco tutte queste popolazioni che si stabiliscono nel territorio romano o in quello che era che era stato il territorio romano portano un super strato cioè delle nuove lingue che si mettono sopra il latino quindi immaginate che il latino a un certo punto si ritrova essere la lingua di mezzo quella più diffusa quella ufficiale ha un sottostrato di lingue parlate dei popoli che vanno a conquistare i romani e poi arriva con la fine dell'impero un super strato di nuove lingue cosiddette barbariche in modo secondo me anche un po' inappropriato poi ci torneremo un super strato appunto che praticamente vanno a prendere come una pinza in latino e questa fusione questi contatti numerosissimi generano nuove lingue ora non entro troppo nel dettaglio perché potremmo parlarci per un anno di queste cose ma mi interessa che voi capiate che voi capiate che studiate latino o no mi interessa che voi capiate questo questo passaggio storico no e molti mi chiedono in classe no non molti alcuni mi chiedono in classe se questo fenomeno è paragonabile all'inglese di oggi secondo me sì in un certo senso perché ci aiuta a capire un po quello che è successo quasi quasi duemila anni fa no perché è paragonabile perché tutti noi oggi studiamo studiamo inglese addirittura da elementari quindi ormai l'inglese è diventato è diventata sta diventando sta diventando la nostra seconda lingua e tutti conosciamo anche chi non studia inglese però tutti ormai conosciamo espressioni parole alcune frasi magari pezzi di canzoni molti molti viaggiano tantissimi di noi ormai viaggiano fanno turismo all'estero e quindi per capirsi con il cameriere o con l'hotel insomma il gestore dell'hotel usiamo un pochino di inglese ecco e poi l'inglese è la lingua ormai ufficiale di tante cose per lavorare per la politica insomma per fare film ecco per tante cose l'inglese è diventato ormai lingua di comunicazione delle scienze lingua di comunicazione comune all'internazionale ecco quindi immaginate che il fenomeno tutto sommato è simile cioè noi noi parliamo il nostro volgare arriviamo il nostro volgare che il volgare italiano c'è la nostra lingua locale che è il sostrato dell'inglese l'inglese è la lingua che si diffonde a livello imperiale in tutto il mondo quasi tutto il mondo anzi tutto il mondo ormai ci sarà un super strato bisogna vederlo bisogna vedere per adesso non c'è quindi c'è però l'inglese che si diffonde in tutto il mondo ecco quindi noi parliamo la nostra lingua locale che è l'italiano e poi parliamo l'inglese che ci serve per comunicare con con gli altri con chi non parla italiano insomma per fare mille altre cose questo contatto tra l'italiano e inglese ha prodotto e produce e continua a produrre delle novità novità linguistiche faccio faccio un esempio che ne so la parola impattare o la parola impattare che adesso sta nel dizionario della tre cani e io ricordo non ricordo scusate non ricordo questa parola vent'anni fa né scritta né usata oralmente oggi è una parola normalissima credo credo che venga mi suona un po una cosa che viene dall'inglese ma che ne so ce ne sono tantissime noi non traduciamo quasi niente dall'inglese computer mouse ma ci sono tantissimi esempi in latino è successo una cosa simile cioè c'erano le lingue del popolo che parlava la gente che parlava la gente comune su queste queste si intrecciavano con il latino e che cosa è successo beh è successo che è sparito il latino non del tutto sono spariti le lingue locali nemmeno le lingue locali hanno preso in qualche modo il sopravvento e hanno rubato molte parole utili dal latino e le hanno trasformate portandole nel loro campo nell'espressione quotidiana ora quando si completa questo dopo la fine dell'impero romano questo passaggio tra sostrato latino e superstrato delle lingue barbariche ecco che nascono le lingue delle lingue volgari da vulgus popolo quindi le lingue parlate parlate dal popolo ora dobbiamo facciamo un salto a questo punto una volta capito questo meccanismo e facciamo un salto allo scritto cosa succede questo passaggio come dicevo è riguarda la lingua orale quindi la lingua parlata dal popolo nelle strade dove a casa ora però c'è bisogno di anche di scrivere il latino classico va sparendo perché si modifica anche il latino scritto soprattutto con l'avvento del cristianesimo il latino classico sparisce progressivamente dal dalla scrittura rimane però la grammatica latina e latino come lingua di comunicazione scritta soprattutto in che in quali ambienti bene gli ambienti di corte gli ambienti ufficiali e nell'ambiente ecclesiastico nella lingua volgare invece il latino progressivamente sparisce non serve più e si trasforma in qualcos'altro si trasforma appunto in sermo vulgaris il sermo vulgaris è quello per capirci che parlavano i contadini o i soldati la gente del popolo e aveva delle caratteristiche strane per esempio se vi faccio vedere questo documento è l'apprendix probi una sorta di annotazione di un maestro di scuola del 300 dopo cristo che si segnava gli errori che più frequenti che facevano i suoi studenti per esempio diceva speculum in latino no ma i suoi studenti scrivevano speculum che poi diventa lo specchio oppure barbarus in latino diceva il maestro e non barbar come scrivevano i suoi studenti che sarebbe poi il nostro barbaro o di nuovo masculus e non masculus cioè maschio ecco che il maestro del 300 dopo cristo che lavorava vicino al colosseo ha iniziato a rendersi conto che qualcosa stava cambiando già la lingua orale stava già passando allo scritto in forma di errore quindi correggeva gli errori dei suoi studenti questi errori però non poteva sapere che sarebbero diventati invece sarebbero diventati le nostre lingue sarebbero sostituito il latino la cronologia è particolarmente ricca di cose io ve la faccio vedere un attimo l'apprendix probi del quarto secolo dopo cristo quindi appunto abbiamo detto circa il 300 la fine dell'impero romano arriva nel 476 dopo cristo nell'ottocento cosa succede c'è l'indovinello veronese l'ottocento dopo cristo un anno importantissimo l'ottocento circa è un anno importantissimo perché a questo anno a questo secolo a questo periodo si fa risalire questo documento che vi faccio vedere che è l'indovinello veronese ovvero è probabilmente la prima al momento è la prima traccia scritta del non esattamente del volgare ma del latino volgare ovvero del latino parlato pardo latino e l'indovinello è un è un indovinello vero e proprio che è stato scritto a margine come appunto su un manoscritto antico e da un copista probabilmente e dice così se pareva boves alba pratalia araba ed albo versorio teneba et negrosemen seminaba ora senza entrare troppo nel dettaglio questo non è del tutto latino suona ancora latino ovviamente ma non è proprio del tutto latino se andiamo a vedere insomma mancano desinenze mancano alcune cose del latino della grammatica latina e inizia a sembrare qualcosa di diverso cioè inizia a sembrare qualcosa che noi chiamiamo appunto volgare questo manoscritto detto per inciso non è italiano ma è spagnolo è stato poi arrivato in italia ed è poi stato scoperto dai nostri studiosi ed è un indovinello che parla della scrittura perché la mano spinge i buoi o tira i buoi che arano i bianchi che sarebbe la pagina teneva questa mana un versorio cioè un aratro che è la penna che seminava un seme nero cioè l'inchiostro e quindi pensate pensate che bello pensate molto poetico il primo documento scritto del del volgare cioè del passaggio appunto dal latino scritto al volgare scritto parla della scrittura come se questo copista fosse affascinato dal dal gesto dello scrivere del seminare questo seminero dell'inchiostro e mentre appunto stava pensando già non più in latino ma stava pensando in qualcosa di di diverso bene tornando alla cronologia dopo l'ottocento abbiamo il concilio di tour e i giuramenti di strasburgo quindi 813 842 dopo questo sono due documenti questi invece sono documenti ufficiali nei quali il volgare entra già entra in maniera più prepotente come lingua esistente no ma a questo punto sto pensando una cosa dato che sono circa 20 minuti che parlo non voglio superare troppo la durata di questi video e quindi io lo interrompo qui e ne preparo un altro nel quale parliamo appunto dal di quello che succede dal concilio di tour fino alla nascita della letteratura italiana a presto